Il Comune di Bari lancia un bando per affidare il servizio di ideazione e realizzazione di un sistema di identità della città di Bari, comprensivo di piano di marketing, brand, campagna multisoggetto, spot video, un oggetto di design e le necessarie declinazioni e manuali d'uso. L'importo è di 57.377 euro più IVA. La gara, offerta economicamente più vantaggiosa, si chiuderà il 19 settembre a mezzogiorno. A formare la commissione esaminatrice saranno tecnici esperti scelti fra le principali agenzie di comunicazione che non parteciperanno alla gara. L'assessore alle culture e turismo Silvio Maselli ha spiegato che il sistema di identità rappresenta l'ultimo tassello della strategia complessiva messa in campo dall'amministrazione comunale per incentivare il sistema dell'offerta turistica della città di Bari. La visione strategica si compone di tre pezzi ed è finalizzata ad incrementare il numero già considerevole di turisti che arrivano nel capoluogo. 335.000 arrivi nel 2015, 622.000 presenze, oltre 500.000 croceristi che non si conteggiano fra le presenze perché non dormono in città. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione De Caro è raggiungere un milione di presenze annue al netto dei croceristi. Se noi andiamo a New York la prima cosa che ci portiamo nel cuore è appunto il segno del cuore, I, cuore, N, Y, cioè I love New York. È un marchio talmente potente, talmente riconoscibile che fa tutt'uno ormai con l'identità di quella città. Se andiamo ad Amsterdam tutti facciamo la foto sulla scritta I Amsterdam che è vicino al museo di Van Gogh nella piazza principale della città. Ecco, ogni grande città ma anche ogni piccola media città ha un brand, cioè un sistema complesso che designa la sua identità e noi vogliamo arrivare a dare a Bari un elemento grafico e un sistema creativo che narri la città che noi vogliamo essere. Una strategia di incoming che passa attraverso il completamento dei contenitori e dei luoghi della cultura. Il museo di Santa Scolastica, il polo del contemporaneo per cui sono partiti i lavori al Margherita, il Piccini, il Cursal che la regione trasferirà al comune, la caserma Rossani con la più grande public library del mezzogiorno, il polo della ricerca scientifica e delle politiche giovanili all'ex manifattura tabacchi, il waterfront di San Girolamo, gli interventi di restyling su tutto il litorale barese. Il primo punto di questa strategia è la Bari Guest Card che consentirà ai turisti di comprare le ricchezze della città. Gara aggiudicata, il soggetto vincitore sta lavorando su un'infrastruttura immateriale per procedere poi con gli interventi immateriali che consentiranno di dotare le bellezze della città di paline informative e intelligenti, di allestire a un visitor center di ultima generazione all'interno del Castello Svevo e presso lo IAT. Entro il 6 dicembre è stata annunciata la consegna definitiva e il collaudo del pacchetto Guest Card e sarà bandita la gara per individuarne il soggetto gestore. Il secondo tassello della strategia riguarda il punto di informazione turistica, lo IAT, la cui gara è stata chiusa, le buste verranno aperte prima di Ferragosto. Terzo e ultimo pezzo che è sempre mancato alla città è appunto la costruzione di una brand identity, il sistema di identità. Al bando presentato ieri potranno partecipare tutte le agenzie di comunicazione, marketing e design interessate e dotate dei requisiti minimi di legge, anche associate fra loro, per realizzare un piano di marketing strategico della città di Bari. Chi si aggiudicherà il bando dovrà presentare entro 30 giorni gli esecutivi di stampa del brand e dar vita a focus group e occasioni di confronto e partecipazione con cittadini e turisti. Con questo bando una volta per tutte capiremo che cosa siamo, quello che vogliamo diventare e soprattutto come dobbiamo comunicare quello che siamo e quello che diventeremo. e lo facciamo con un bando pubblico creando un brand della città di Bari e creando anche un piano di marketing per rendere questa città più attrattiva dal punto di vista turistico rispetto ai dati sul turismo che sono già molto positivi.